Le quote latte, dico che mi fa piacere che quell'azione del Ministro che ho portato avanti di assoluta trasparenza e legalità si sia tradotta in una indagine da parte dei carabinieri commissionata da sottoscritto che in maniera assolutamente autonoma, serena, ha rilevato alcune irregolarità sui numeri. Lasciamo spazio oggi alla magistratura di chiarire fino in fondo. L'unico mio interesse che è quello dei cittadini non coinvolti che non sono produttori di latte è quello che sia applicata fino in fondo la legalità. Se fosse vero che i numeri sono sbagliati, come dicono i carabinieri, vorrebbe dire che l'Italia ha pagato 2 miliardi e mezzo di euro di multe per nulla all'Europa e questo sarebbe grave ma soprattutto farebbe tacere i tanti tromboni che hanno parlato fino ad oggi.